Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Fultivati controlli post terremoto su strade, punti, viadotti e immobili domani riaprono le scuole in tutta la provincia di Pesaro Urbino A Fanno i carabinieri arrestano un trentenne marocchino dopo aver rubato in quattro negozi si era nascosto sotto una macchina La notte di Halloween in città si trasforma nella notte dei vanni Pesa 24 kg ed è stato catturato da un fanese nel mare Adriatico Il pesce Leccia a dargli la caccia a 5 imbarcazioni Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fanno TV sul canale 17 C'è occhio alla notizia, all'informazione, il telegiornale che anche questa sera si apre con gli aggiornamenti sul terremoto Nella provincia di Pesaro Urbino si sono conclusi i sopralluoghi Dunque domani riaprono tutte le scuole Vediamo Ore di febbrile attività in moltissimi comuni per valutare negli edifici pubblici e nelle scuole gli eventuali danni o conseguenze causate dalle scosse di terremoto degli ultimi giorni e che hanno provocato oltre mille sfollati e fatto ripiombare nell'angoscia migliaia di persone nel centro Italia La terra continua a tremare lo sciame sismico con scosse anche di intensità superiore a 4 si fa sentire a Fanno causando oltre a qualche lieve danno alle infrastrutture una sensazione diffusa di apprensione e ansia nella popolazione I vigi del fuoco di Fanno da ieri hanno effettuato oltre 25 interventi giornalieri per valutazioni di staticità in svariati edifici e hanno anche avuto il raddoppio del turno di urno fino alla giornata di domani Chiusa per il crollo di alcuni calcinacci da un palazzo via Pola che collega la stazione delle Corriere a via Rinalducci fino a quando la parte lesionata dello stabile non verrà messa in sicurezza Restano chiuse anche Santa Maria Nuova e San Cesario a Carrara Riaperte ai fedeli invece San Paterniano e Madonna Ponte anche se nei giorni prossimi verranno effettuati ulteriori controlli Transenne anche in piazza e in via del teatro a ridosso del palazzo del Podestà per una sospetta crepa proprio sotto il quadrante dell'orologio che guarda la piazza come in via Cavour dove resta chiusa in attesa di verifiche l'agenzia 2 della Carifano Aperta oggi anche la residenza comunale in quanto i vigili del fuoco hanno appurato che non esistono pericoli per le persone Tutte le ispezioni da parte degli uffici tecnici del comune di Fano sono state svolte e sono state svolte questo diciamo lunedì e anche questa mattina sono proseguite insieme anche in alcuni casi ai vigili del fuoco non abbiamo sono state controllate tutte le scuole del comune di Fano quelle di competenza comunale non sono stati riscontrati problemi tali da imperserirci sono stati riscontrati in questi due giorni dei piccoli problemi presso la torre civica per cui con i vigili del fuoco insieme ai tecnici comunali abbiamo fatto un'ispezione sia all'esterno che all'interno della torre civica e abbiamo chiuso per precauzione via del teatro e uno stallo diciamo in piazza 20 settembre per paura di possibili cedimenti superficiali dei mattoni che potessero cadere ma solo a scopo precauzionale così come a scopo precauzionale è stata chiusa via Paoli dove c'è una casa privata che destava un po' di preoccupazione altre cose da segnalare non ce ne sono sono continuate anche le verifiche sulla Santa Maria Nuova che sarà riaperta a brevissimo e inoltre abbiamo avviato già i lavori per la sistemazione di alcune aree all'interno dell'edificio comunale che diciamo piccole riparazioni che andavano fatte anche a seguito delle ispezioni che abbiamo effettuato la settimana scorsa altre cose non sono da segnalare invece vi segnaliamo che a Senigallia all'interno dell'ospedale cittadino c'è la palazzina H dell'ospedale di Senigallia che risulta non agibile ora l'Asur sta valutando come riorganizzare gli spazi all'interno appunto della stessa struttura poi questa mattina sono stati eseguiti sopralluoghi presso alcuni edifici scolastici nel comune di Cartoceto il quadro resta sostanzialmente mutato rispetto a quanto riscontrato durante le precedenti verifiche motivo per cui nella giornata di domani tutti gli istituti scolastici del comune di Cartoceto saranno regolarmente aperti la cronaca i carabinieri di Fano hanno intercettato ed arrestato un marocchino di 30 anni che nella notte aveva rubato in quattro negozi poi per nascondersi aveva deciso di mettersi sotto un'automobile in sosta marocchino trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Fano per furto e tentato furto nella tarda serata di sabato la zona presa di mira dall'uomo armato di un piede di porco di oltre mezzo metro è stata quella attorno al semaforo del Lido sulla Nazionale presi di mira il supermercato poco distante la rosticceria il negozio di materassi per recimolare in tutto pochi spicci appena 150 euro ma a causare molti danni data l'ora e il giorno in diverse persone lo hanno notato nei suoi maldestri tentativi di furto e avvisato i carabinieri che si sono messi subito sulle sue tracce ed anche grazie alla descrizione data di lui come un tipo dall'andamento barcollante con in mano un piede di porco e abbigliamento scuro i militari lo hanno rintracciato attorno all'1.30 di notte nei paraggi di via Sansovino dopo che aveva fatto visita a un altro negozio di abbigliamento questa volta nel centro di Fano alla vista dei carabinieri il marocchino con precedenti e già noto alle forze dell'ordine ha tentato maldestramente di nascondersi sotto un'auto dopo essersi disfatto del Grimaldello ma il tentativo non gli è valso a nulla i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato nella giornata di domenica che per direttissima ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza atti vandalici durante la festa di Halloween lo scorso 31 ottobre anche nel quartiere di Rosciano come ovunque ormai purtroppo a causa della globalizzazione ed omologazione di occasioni che nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione e radice culturale e che già va la slegata affermazione dolcetto scherzetto ma più che altro in molti casi è stato scherzetto anzi dispetto più che altro e per finire anche nel danneggiamento prese di mira come sempre e questa ormai è un'amara consuetudine le buchette delle lettere dove un insano gusto e distorta interpretazione del divertimento ha fatto sì che fossero fatte saltare letteralmente per aria con diversi petardi allora insomma una brutta sorpresa in queste ore bruttissima tra l'altro neanche la prima quindi questa conta tre alla fine uno perde anche la pazienza però bisogna sempre tenere conto che facciamo un riferimento dei ragazzi i cari signori genitori che danno i soldini ai propri bambini poi devono andare a vedere cosa ne fanno perché se vanno a comprare oggetti che causano questi danni beh forse è meglio che gli stiano un pochino un po' più dietro qui da un po' di tempo a questa parte si vive sempre meno ma questo non è tutto dato che la vicinanza ed una facile via di fuga ha deciso le sorti della buchetta della posta del malcapitato ha contemporaneamente fatto sì che la stessa una zona franca da tempo stagio di ragazzacci impenitenti venisse utilizzata a loro piacimento sappiamo benissimo che sono sempre si stessi io mi do da fare per tieni in ordine ma sono sempre stessi dici qualcosa ti rispondo male ancora ma tu chi sei tu poi anche ma tu prendi i soldi dal comune io non prendo niente io ci metto le tasche a mie del mio portafoglio la mia pensione per tieni in ordine pulito ho trovato cinque cucchiaini lo stesso servizio più di questo non si può fare il prete gli ha svidati dietro alla chiesa non ci sono più altri ieri li abbiamo trovati davanti alla banchina della chiesa di notte che è sempre illuminato ma è sempre pericoloso vogliamo fare un pochino a stare coi piedi su due belle staffe a Calcinelli una giovane donna si è tolta la vita impiccandosi nel garage di casa si è tolta la vita nel cuore della notte scorsa nel garage dell'abitazione dove svolgeva la mansione di Badante una donna di origine moldave di 30 anni a chiamare i carabinieri attorno a luna di notte dopo aver fatto la macra e la scoperta è stata la madre stessa della giovane che viveva assieme a lei e ai due anziani che acudiva da tempo in una palazzina lungo la famiglia nella frazione di Calcinelli quello che vedete alle mie spalle è il garage nel quale all'una di notte di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita della rumena 30enne madre di un bimbo di 8 anni la donna si è impiccata utilizzando un cavo elettrico fissato ad un tubo sul soffitto del garage sconosciute al momento le cause all'origine del gesto in quanto la 33enne non ha lasciato nessun scritto che spiegasse le motivazioni che l'hanno portata alla tragica decisione sul posto oltre ai carabinieri di saltare anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la giovane già priva di vita al loro arrivo la donna lascia una bambina di 8 anni che viveva con lei e la madre la salma ora è stata ricomposta all'obitorio di Fano a disposizione del giudice che potrebbe decidere nella giornata di oggi per l'autopsia torniamo a parlare adesso ancora del terremoto perché il sisma ha costretto il paroco di Serrungarina a chiudere due chiese quella di Barni e di Serrungarina appunto il sisma ha provocato alcune crepe al loro interno che dovranno essere ispezionate meglio e poi anche per la mancanza di uscite di sicurezza la celebrazione delle messe dunque saranno trasferite a Tavernelle per agevolare gli spostamenti dei fedeli è stato messo a disposizione anche un pulmino gratuito che partirà da Serrungarina in via Roma mezz'ora prima di ogni messa gli orari sono alle 9 alle 11 e i feriali alle 20 e 30 lo vedete anche nel cartello in sovraimpressione la Profilglas l'azienda più grande della città di Fano si occupa che si occupa di lavorazioni dell'alluminio ha deciso di donare due defibrillatori ad altrettante realtà sportive che ne erano ancora sprovviste le due associazioni sono quella dei carissimi e lo Spotland che gestisce gli impianti sportivi dei bagni Arzilla adesso andiamo in mare perché come vedete dal filmato che è già partito alle mie spalle adesso vi mostriamo i momenti anche concitati della cattura di un pesce che si chiama Lece Amia una specie predatoria pelagica da pochi anni presente anche nel mare Adriatico catturato questo pesce da Riccardo Guccione un fanese appassionato di pesca nel suo profilo Facebook ha pubblicato queste immagini che appunto lo ritraggono mentre alle prese con la cattura di questo grosso pesce il pesce Leccia proviene dalle coste dell'Africa e a causa del riscaldamento delle acque ora è possibile trovarlo anche da noi la Leccia è stata pescata a Traina che è una tecnica di pesca sportiva con attaccato un cefalo questo esemplare che vedete nella fotografia pesa 24 kg per un metro e quaranta di lunghezza Guccione lo ha pescato in solitaria tenendo conto tra l'altro che alla ricerca dello stesso pesce dello stesso esemplare c'erano anche altre cinque imbarcazioni la Drellanile è stata tanta la fortuna pure ci ha detto in chat Riccardo Guccione lo scorso anno ero riuscito a prenderne una di 22 kg e l'ho tirata a bordo con un motore con il motore fermo mentre questa volta il pesce mi ha sbobinato circa 300 metri di filo quasi tutto praticamente il mulinello rotante uno dei momenti più difficili è stato portare il grosso pesce verso l'imbarcazione così è stato necessario ingranare la marcia e seguire il pesce recuperando mano a mano anche il filo in mare rispetto all'anno scorso conclude Riccardo Uguccioni questa leccia aveva davvero una grande forza ed è continuato e ha continuato a lottare fino a sotto la barca ma alla fine si è dovuta arrendere se anche voi avete imprese più o meno simili di ogni genere mandatecele pure ormai sapete quali sono i nostri riferimenti intanto con questo finisce qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito il prossimo appuntamento in diretta con informazione su Fano TV e domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa occhio ai giornali arrivederci